Buongiorno, bentrovati, buon sabato mattina, benvenuti alla rassegna stampa, l'ultima rassegna stampa della settimana, noi siamo qui tutte le mattine in diretta alle ore 7 per farvi vedere così le notizie principali sui giornali, insieme a noi naturalmente Arresto del Callino e Corriere Adriatico, è un sorvolo, naturalmente una panoramica delle notizie principali ma naturalmente all'interno dei giornali ce ne sono tante e tante di più, noi vediamo come si dice un'infarinatura di quello che è il live motive della giornata, ma guardiamo anche le previsioni del tempo e il calendario, partiamo proprio da questo, vediamo che cosa ci dice oggi sabato 11 gennaio, si ricorda Santo Maso, Palaciti da Corri, il sole sorgerà alle 7.40 e tramonterà alle 16.51, vediamo le previsioni del tempo che sono all'insegna in questo periodo della variabilità, quindi il cielo per oggi sarà parzialmente nuvoloso, stratificazioni basse, maggiormente però confinate nei settori montani nel corso del pomeriggio, quindi sui rilievi ci saranno peggioramenti nel corso del pomeriggio, però le precipitazioni non saranno presenti, quindi nessuna precipitazione, anche per domani sostanzialmente la giornata è la stessa, cielo più sereno lungo la costa e inizialmente nuvoloso e il dissolvimento della nuvosità durante la seconda parte della giornata per il resto della regione, anche per domani nessuna pioggia all'orizzonte, temperature senza variazioni di rilievo e per lunedì la tendenza anzi è proprio al bello, al sereno, vedete un sole pieno, sereno e poco nuvoloso, nessuna precipitazione e naturalmente minime anche in diminuzione per quanto riguarda le temperature. Bene, adesso apriamo i giornali, vi porto nella pagina di Ancona del resto del Carlino, si parla della Sciagura, avvenuta la stazione di Loreto, il mio Mattia parla il padre, non doveva morire, travolto dal treno a 16 anni, il dolore del padre, shock naturalmente anche a scuola, tra i compagni di scuola e quindi psicologi in classe, fiori sul banco, gli amici e i compagni dicono era il nostro Angelo. Però come fotonotizia c'è questa che riguarda la scomparsa in una località a Fornetto, c'è una statua, una statua di una madonnina scomparsa da una nicchia, i fedeli non ne sanno nulla, dicono non c'era bisogno di manutenzione, quindi non capiamo perché purtroppo è sparita. appunto dicevo l'altra faccia, il risvolto di queste tragedie sono quello che poi è il giorno dopo nella comunità, in questo caso questo ragazzo era un sedicene, uno studente di un istituto alberghiero e quindi vedete fiori sui banchi e il ricordo del dottor Massimo Mari dell'area vasta 2 e team di psicologi appunto in classe per supportare i compagni e i compagni di questo ragazzo che adesso devono affrontare e devono metabolizzare questo luto, eccolo qua il banco di Mattia, i compagni dicono sarai il nostro Angelo, il nostro Angelo custode. Da Pesaro invece l'apertura è per la politica, ci avviamo grandi passi verso le elezioni regionali e quindi avete letto anche nei giorni scorsi all'interno delle coalizioni che si vanno a creare tra PD, 5 Stelle, l'alleanza ancora non c'è, quello che c'è a livello come quadro nazionale, nello specifico non va tutto così liscio, elezioni all'assemblea regionale del PD, solo prove di dialogo, ma oggi dice la Lega non so quando arriverà, ma si parla anche di reddito di cittadinanza, nessuno dei 2.900 che percepisce il sussidio a un'occupazione, quindi reddito sì e lavoro no. Vediamo anche poi qui a fondo pagina Elisa e Sonia, il doppio addio oggi è il giorno del dolore, accogli al metauro. Invece nel Corriere Adriatico, anche qui si punta sulla politica per l'apertura, telefonata Ceriscioli Longhi, Longhi è l'ex rettore della Politecnica delle Marche, è sceso in politica e dice prove di disgelo sull'ex rettore, il governatore attuale esce allo scoperto, Ceriscioli dice se il tuo nome unisce il fronte posso anche farmi da parte. E poi scogliere di Ponente, su Pesero arrivano una pioggia di soldi per mettere la prima posa delle scogliere e quindi ci si avvia verso una soluzione per questo problema. Ci siamo, si dice a febbraio partono i lavori, l'assessore Belloni conta di concludere la posa entro aprile, quindi entro la stagione estiva. E poi si parla di attività, di tutto quello che è il corollario di attività che attirano e catturano persone nelle varie città, in questo modo particolare lo sport, aspettando i beach game, però va riqualificato anche il lungomare per accogliere al meglio tutto il movimento, tutte le persone che gli faranno seguito. Queste sono le richieste della CNA in vista di questo evento. Berloni, ci sono all'orizzonte schiarite per gli 85 dipendenti, si è vicino alla prima scadenza per presentare la manifestazione di interesse e poi dovranno naturalmente queste manifestazioni tramutarsi in offerte tangibili, quindi si dovranno concretizzare queste intenzioni a rilevare l'azienda. Soluzioni in tempi rapidi, la priorità è non smembrare l'azienda e quindi di non fare uno spezzatino, insomma, di non dividere le competenze. Il liquidatore Meloncelli dice appunto l'obiettivo è la continuità, la continuità produttiva. Reddito di cittadinanza dal lancio della prima pagina, oltre 100 non si presentano al job e quasi 700 persone, il 20% ha ottenuto l'esonero dall'accettare un'occupazione, ma per gli altri 2.900 erotti sono stati chiamati a valutare quello che sanno o vorrebbero fare e qui vedete nell'infografica vi potete divertire e guardare tutti i numeri di questa cosa. P10 5 stelle, dicevamo nella prima pagina, prove di dialogo senza delega, nulla di fatto nel summit del centro-sinistra, vedete qui il Gosto, il segretario, il grillino Maggi spunta a titolo personale, mentre i civici abbandonano la riunione. Insomma, siamo ancora abbastanza in alto mare, ma man mano che ci avviciniamo vedrete che le cose si definiranno sempre maggiormente. Si è parlato ieri, come è stato fatto già altre volte nei giorni passati, si fanno un po' i bilanci di fine anno, ma il bilancio delle prologo per quanto riguarda il brand natalizio, il Natale che non ti aspetti, è sicuramente un brand che si rafforza anno per anno. Ora puntiamo alle marche, il boom di presenze per il Natale che non ti aspetti è un format di successo, vedete qui tutti i sindaci, Renato Claudio Minardi, Damiano Bartocetti, il presidente provinciale della prologo e tutte le varie figure interessate da questo aspetto. Un format che è risultato vincente e quindi insomma lo si vuole proporre anche in altri contesti, il tutto grazie comunque, lo ricordiamo sempre, al grande lavoro dei volontari senza i quali insomma veramente penso che sia difficile fare qualsiasi cosa oggigiorno, visti i costi e anche le incombenze. Fano, andiamo a Fano per quanto riguarda appunto la pagina di Fano del Corriere Adriatico, inaugurata ieri la nuova pista ciclabile a Sant'Orso, riordinata tutta un po' la viabilità, presto ci saranno altri agganci, altri allacci con altri pezzi, insomma si cerca di dare una sorta di circuito virtuoso su aree direttrici per mettere in rete un po' tutti i quartieri. Adesso questa è via Soncino, careggiata ristretta di un terzo per dare spazio a bici e pedoni e insomma costringere le automobili ad andare a una velocità ridotta, più o meno di 30 km. Allora questo è insomma l'intento per, vedete se ci passate in queste ore, vedete la ampia fascia rossa a destra della careggiata e tutta la pista ciclo pedonale e ieri c'è stato appunto il taglio del nastro di questi nuovi 500 metri di ciclabile che si aggiungono ad altri, insomma quindi la pista ciclabile nel quartiere di Sant'Orso è quasi di un chilometro e mezzo. In carico e lavori per 900 mila euro, per il Mancini un doppio binario, il vice sindaco Fanesi dice dobbiamo essere concreti, questo è lo stadio in cui si gioca e quindi bisogna aggiornarlo e metterlo in regime. Gli altri per il momento rimangono voli pindarici, quelli di una nuova struttura, vedremo come si potrà concretizzare. È una nuova figura si affaccia in comune, si chiama Christian Amatori, 50 anni, già capo di gabinetto a Riccione, assume l'incarico di portavoce del sindaco e questo si va ad aggiungere al bando per i due giornalisti che dovrebbero far parte dell'ufficio stampa del comune. È stato assunto, dovrebbe ricoprire quello che fino a poco tempo fa era un po' l'incarico di un segretario personale del sindaco, ricoperto da Zino Zacchilli che adesso è diventato presidente del centro studi Vitruviani. Amatori vanta un'ampia esperienza in ambito amministrativo anche per altre associazioni, più che altro in Romagna, però adesso lavorerà a stretto contatto con il sindaco di Fano. Ma oggi è la giornata che tutti sappiamo purtroppo dell'ultimo saluto a Elisa e Sonia. Il sindaco Aguzzi dice che siamo tutti molto turbati, oggi a Calcinelli doppio funerale, alle 10.30 mattina ci sarà il funerale della maestra di Elisa e poi alle 15 invece saranno le esecui della parrucchiera Sonia Farris. Oggi è una giornata tra l'altro di lutto cittadino indetto dal sindaco Aguzzi. Anche il resto del Carlino sottolinea questo giorno di grande dolore per tutta la comunità di Coglian al Metauro che si ferma per i funerali di queste due amiche saracinesche abbassate e traffico limitato e bandiere a mezz'asta proprio per questa giornata. Cambiando argomento vi dicevo appunto del nuovo stadio, Gabellini non molla, dice ecco lo stadio eco-energetico e dobbiamo, dice lui, lavorare al business plan per poter essere consegnato tra marzo e aprile il progetto architettonico. È già pronto, insomma, quindi lui ci crede molto e nell'intervista al resto del Carlino traccia un po' le direttrici di questa opera inaugurata, quindi la pista anche il resto del Carlino ne parla, ma è già polemica perché il leghista Sir Filippe avanza perplessità proprio in virtù della careggiata stretta e dei mezzi soprattutto pubblici, quindi i tram che non avrebbero lo spazio per entrare nell'area a loro destinata e quindi costringerebbero le macchine a fermarsi, a fare sorpassi, insomma, Sir Filippi focalizza alcune criticità strutturali di questa nuova opera. Urbino, anche qui giornata di shock e di dolore per la morte di Alessio, il trentenne che giovedì ha perso la vita in uno schianto terribile lungo la strada che porta da Urbania a Fermignano, messaggi sui social, l'addio del fratello e l'azienda Imab dove il ragazzo lavorava è sconvolta per questa perdita, Ronconi rientrava in auto a Urbania dopo il lavoro. Generose Solare lascia un vuoto, un vuoto incolmabile. Nella pagina del resto del Carlino si parla di Ponte Armellina, il Comune spende un milione per un piano di urbanizzazione e verranno costruiti i ponti campiti da gioco e anche una nuova illuminazione e quindi le case di Ponte Armellina sono andate all'asta, alcune sono state quotate 8 mila euro, però è un quartiere semi abbandonato che sarà un attimino messo sotto la lente di ingrandimento del Comune per poterlo riportare a un livello di decenza. Schianto mortale, oggi però è anche il giorno dell'autopsia per quanto riguarda Alessio Ronconi, autopsia di Prassi che dovrà chiarire alcuni aspetti sull'incidente mortale nel quale purtroppo lui ha perso la vita. Nella Valcesano lavori per la ciclovia adriatica, una realtà che diventa sempre più consistente, dovrebbe essere una ciclovia che mette in contatto tre città, Fano, Marotta e Senigallia, ma che nel progetto un po' più ampio sarebbe una ciclabile che mette in contatto tutta la costa adriatica. Per intanto noi ci facciamo questo pezzetto, Marotta e Senigallia sono già partiti, ma ieri ci hanno detto durante il taglio del nastro della ciclabile di Sant'Orso che presto a marzo avremo il via dei lavori anche per quanto riguarda il nostro pezzo che arriverebbe proprio a Ponte Sasso dove sono iniziati appunto al limite del confine con il Comune di Marotta i lavori dell'amministrazione comunale marottese proprio per collegare poi tutti e tre i pezzi. E ci sarà anche un'altra cosa molto bella che presto verrà presentata, è un ponte sul fiume Cesano, un ponte ciclopedonabile che sarà un ponte insomma che metterà in contatto le due province, la provincia di Ancona e quella di Pesaro virtualmente ma anche materialmente proprio in virtù di questa ciclovia adriatica, insomma un'opera non solo dal valore pratico ma anche simbolico. A Senigallia invece Uliassi, chef stellato, ricorda un suo amico diventato poi nel tempo un clochard, Yao che lo vedete qui, era della costa d'Avorio, era un nivoriano, era arrivato in Italia con il sogno di aprire in un ristorante, aveva frequentato anche il Panzini e aveva lavorato nello staff proprio dello chef stellato, ora però si era perso, purtroppo martedì una malattia lo ha portato via, era ricomparso in città con il carrellino e poche masserite, insomma così faceva un po' un altro tipo di vita ma lo chef stellato Uliassi l'ha voluto ricordare, Yao era il mio fratello africano, sognava appunto addirittura di aprire anche una scuola alberghiera in costa d'Avorio. Invece per quanto riguarda il resto del carrellino si parla di fondi, fondi sbloccati per anche qui le scogliere a difesa della Renile e della costa senigallese verranno stanziati ben 8 milioni di euro. E allora andiamo a rivederci le pagine principali, in chiusura di rassegna stampa, vediamo l'apertura di Ancona per Mattia che non doveva morire, ragazzino di 16 anni travolto nella stazione di Loreto da un freccia argento, tutto il dolore del padre ma anche dei compagni di scuola che ora dovevano affrontare un brutto momento da questo punto di vista. La Madonnina poi scomparsa, giallo a fornetto, statua sparita nel nulla. Adesso vediamo l'apertura di Pesaro che è appunto per il lavoro, reddito di cittadinanza, reddito sì ma lavoro no, arrivano appunto i fondi ma per molti più di 2.900 persone non c'è ancora la prospettiva lavorativa, però l'apertura è per la politica, PD 5 Stelle l'alleanza ancora non c'è in vista delle regionali e questa invece è l'apertura del Corriere Adriatico anche qui sulla politica, però si parla della telefonata intercorsa tra Ceriscioli e Longhi, l'ex rettore dell'Università Politecnica delle Marche sceso in politica che adesso cerca di focalizzare l'attenzione sulla sua persona e quindi prove di disgelo sull'ex rettore tra il governatore e un possibile candidato. E poi scogliere a Ponente, buona la prima, prima posa arrivano fondi appunto per le scogliere di Pesaro. Bene, questo è tutto per la rassegna stampa di oggi, naturalmente la settimana dal punto di vista di Occhi giornali si chiude qui. Noi questa sera però abbiamo il nostro magazine che racchiude un po' i fatti principali di cronaca, ma insomma tutto quello che è accaduto nel corso della settimana, ma anche eventi quotidiani, quello che accade nella giornata e oggi daremo spazio anche ai funerali di Elisa e Sonia, questa sera nel magazine 7 per occhio. Bene, l'informazione torna lunedì mattina, 7 qui puntuali per Occhio ai giornali, il nostro numero in sovrimpressione che vedete adesso però è sempre attivo per le vostre segnalazioni o entrare in contatto con la nostra redazione. Grazie, buon fine settimana a tutti voi, arrivederci. Grazie.